Detastazione delle mensilità aggiuntive sui redditi di lavoro dipendenti assimulati. Questo disegno di legge non fa altro che incarnare la filosofia che c'è dietro alla nostra carta costituzionale nella parte in cui si parla di progressività dell'imposizione fiscale e redistribuzione in un certo qual senso della ricchezza. Ecco nel caso di specie il disegno di legge va a detassare fino a 5.000 euro annui le mensilità aggiuntive che normalmente vengono erogati nel periodo di luglio o dicembre riferite ai redditi di lavoro dipendenti assimilati. Quindi sostanzialmente si fa in modo che in determinati periodi dell'anno i lavoratori dipendenti o comunque coloro che hanno redditi assimilati al lavoro dipendente possano avere una disponibilità economica più elevata e questo ovviamente favorisce anche i consumi. Aspetto i vostri consigli sull'ex e dopodiché verrà presentato il disegno di legge. Grazie a tutti per i consigli.